The Second Machine Age di Eric Brynjolfsson e Andrew McAfee esplora l'impatto delle tecnologie avanzate sull'economia e sulla società. Gli autori analizzano la rivoluzione digitale in corso, evidenziando le opportunità e le sfide che essa porta. Attraverso esempi concreti e analisi approfondite, il libro esplora il cambiamento nel mondo del lavoro, le nuove forme di produttività e i modelli economici emergenti. Brynjolfsson e McAfee propongono strategie per sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie avanzate e garantire la prosperità per tutti in questa nuova era digitale.